eccoci passo del giulia da chiavenna dopo aver fatto passo del maloia qui siamo in un tratto un po pianeggiante siamo in un tratto un po pianeggiante a prender fiato ma nella cura finito mancheranno più di 100 metri di slivello qui essendo più di 2000 metri non c'è nulla di nulla la passo che collega si va plana a bivio e poi all'altra parte della svizzera stiamo accusando con un rapporto agile perché l'altezza si sente l'ossigeno è di meno non voglio faticarmi troppo ho provato molte volte maloia questa volta ho deciso di fare un passo in più un'azione fuori dalla mia zona di comfort tra poco farò anche una foto delle cose di rito e sarò molto orgoglioso è la mia impresa